Buongiorno a tutti ragazzi, non volevo fare questo video però è doveroso visto che ieri sera durante quel programma porcheria di nome Grande Fratello purtroppo si è scritta un'altra pagina vergognosa della storia della televisione italiana e sto parlando della situazione capitata al povero Marco Bellavia che sono con lui ragazzi, sono con lui e ha tutto il mio appoggio quello che è successo ieri ragazzi è stata una cosa vergognosa, è stato un atto discriminatorio e di bullismo che secondo il mio parere ha superato ogni limite di vergogna anche da parte ragazzi degli inquilini della casa ho visto ieri sera un vittimismo fuori dal comune ma partiamo dal presupposto che io non ho vissuto sulla mia pelle atti di bullismo, atti di discriminazione ma li ho visti con i miei occhi subire da ragazzini più piccoli ai danni di quelli più grandi per un pezzo di campo di calcio o per altre cose io ho sempre detto che io sono sempre stato contro e sono contro ogni atto di discriminazione e di bullismo e chi mi viene a parlare di bullismo senza sapere cosa vuol dire c'è solo una parola, il silenzio perché fatevi bella figura Marco Bellavia da quello che hanno raccontato, io ieri ho visto quell'oretta perché io il Grande Fratello non lo guardo però mi ha colpito, mi ha colpito la storia di Marco Bellavia e ho visto cosa è successo una persona che, io sono nato con Marco Bellavia, una persona buona, brava, una persona squisita che purtroppo negli ultimi vent'anni non ha più lavorato o dimenticato dalla televisione italiana ha sofferto tanti anni di depressione e ha continuato a soffrire anche all'interno della casa del Grande Fratello dopo la nomination ha chiesto aiuto a tutti gli inquilini della casa, a parte due o tre però questo aiuto non l'ha avuto ha avuto dei scatti di pianti, ha avuto delle crisi addirittura la scena che mi ha fatto più vergognare di essere italiano e quando lui era per terra con questa crisi piangendo e quei due esseri immondi sono passati e hanno mostrato l'indifferenza, che purtroppo ragazzi l'indifferenza è la cosa, purtroppo è un'arma che fa più male delle altre cose ho visto la signorina Lamborghini che ha raccontato la sua storia che anche lei da ragazzina ha subito questi atti di bullismo, discriminatorio eccetera eccetera che però doveva essere d'esempio ed esempio non è stata dicendo questo uomo merita di essere bullizzato la signorina o il signorino Ele Noir il signor Edward Mani di forbice io lo dico sempre ragazzi sportivamente parlando non lo dico mai seriamente lo dico anche per ironia per essere un po' ironico perché non c'è nulla di ironia dinanzi a questa storia che è successa la signorina Ele Noir che ha detto quest'uomo deve andare al nero di Liri la signorina Gegia che continua con se sue battute del cazzo che non fanno ridere a nessuno credendosi ancora nei set del film di Jerry Cala dicendo finalmente ce lo siamo levati dai coglioni ma guarda secondo me ti dovresti tu levare dai coglioni perché in questo programma spazzatura sei inutile sei inutile vergognati vergognati per poi ragazzi passare al Nos Plus Ultra il grande puffo il nonno puffo Barba Blu che ieri purtroppo e guarda te lo dico in faccia hai fatto la più grande figura di merda eh ma la più grande figura di merda davanti a milioni milioni di italiani facevi più bella figura stare zitto no tu hai continuato a dire io mi scuso eh non me ne raccordo non me ne sono accorto di questa situazione me ne dovevo accorgere prima facevi più bella figura stare zitto e per quanto mi sta sul cazzo e non lo posso vedere quel ragazzo di vent'anni che è un tiktoker e ha fatto il collegio eh a vent'anni eh stando nel suo silenzio e dicendo quelle poche cose che ha detto si è dimostrato più uomo più uomo di tutti i uomini messi insieme in quella casa la ragazza che ha pianto dall'inizio fino alla fine eh si è dimostrata più donna eh rispetto alle donne che ci sono dentro la casa del grande fratello vi dovete solo vergognare avete fatto una figura di merda pessima davanti a tutta Italia dovevate stare zitti perché è nel silenzio che potevate fare bella figura e poi dopo avete continuato avete continuato anche la signora Gegia ha continuato con le sue battute del cazzo che si poteva evitare il signor Charlie Gnocchi dopo finita questa cosa ha continuato a dire stronzate a dire stronzate due calci nel culo te li dovevano dare a te ti dovevano squalificare eh non c'entra non c'entra la squalifica a me delle squalifiche non me le fiega un cazzo eh perché sono state giuste e andavano squalificati per quello che han detto ma io mi voglio riferire al signore Alfonso Signorini uomo che io fino all'altro ieri stivamo stimavo come conduttore e come uomo perché ha un po' il mio carattere Signorini che quando deve dire una cosa non le manda a dire e le dice in faccia dovevi facevi in più bella figura tu e tutti gli autori di questo programma porcheria facevate più bella figura dicendo noi ci scusiamo io mi scuso da parte mia ma soprattutto da parte di tutti gli autori per quello per l'atto di bullismo e discriminatorio che è capitato dopo questa porcheria chiudiamo ufficialmente il programma e ci dimettiamo e ci dimettiamo avete dimostrato di essere delle persone false e ipocrite come falsi e ipocriti erano quei pagliacci lì dentro la casa lì casa perché noi da fuori noi da casa ce ne siamo accorti subito dei problemi che aveva il povero Marco Bellavia ma voi che eravate là dentro che avete continuato a fingere a fingere e vi dovete vergognare vergognatevi 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 oh e là dentro vi dovete accorgere subito che Marco non stava bene che soffriva di depressione che aveva bisogno di aiuto e voi cosa avete fatto? eh? l'indifferenza che è la cosa che fa più male l'indifferenza vi dovete solo vergognare ed è proprio come la gente come voi che questo paese questa società sta andando a rotoli e a puttane ed è proprio come gente come voi che queste persone che hanno questi problemi gravi eh? muoiono e si uccidono e si ammazzano vi dovete vergognare vergognatevi ma che esempio state dando alle nuove generazioni voi dovete essere stati d'esempio per le nuove generazioni e l'esempio l'hanno dato quei due ragazzi di vent'anni l'hanno dato che vi hanno imparato eh? vi hanno dato lezioni di etica morale da due ragazzini di vent'anni cosa che eravate voi che dovevate dare lezioni di etica morale però ragazzi non l'avete avuto le palle e il coraggio detto questo ragazzi io continuo a ribadire tutta la mia vicinanza a Marco Bellavia e volevo dare un messaggio lanciare un messaggio non voglio essere d'esempio per i giovani ragazzi io volevo lanciare un messaggio a questi ragazzi ragazzini ragazzine che giorno dopo giorno subiscono in continuazione questi atti di violenza di discriminazione e di bullismo non abbiate paura abbiate il coraggio di parlare di queste cose con vostra madre vostro papà vostro fratello e sorelle vostri nonni bisnonni amici più stretti amici più cari non abbiate paura e denunciate queste cose denunciate perché solo facendo queste cose qua ne uscirete da questi momenti bui e chi mi viene a parlare di bullismo e si permette di scrivermi nei commenti e di darmi lezione di etica morale c'è solo una cosa una parola per voi il silenzio silenzio ciao ragazzi